scuola di polizia e ci sono i test per essere ammessi allora praticamente il primo il primo candidato entra nella stanza e trova la stanza vuota è un sacco nero cosa fa praticamente si mette dentro il sacco e praticamente mi ricordo più è stata un'estate l'insegna del lavoro e della fatica perché è importante ricominciare bene c'è entusiasmo c'è voglia quindi siamo tirati a pennello siamo pronti per ripetire dai ragazzi forza padova volete una barzelletta a voi però praticamente c'è un pullman di studenti che va in vacanza in gita in gita scuola e arriva che c'è che c'è una galleria però l'autista cosa fa si accorge che il pullman che il pullman tocca quindi scende il pullman non passa stanno lì a parlare chiamano i carabinieri tutti lì per risolvere il problema passava una macchina con vecchietto che abbassa il finestrino e fa qual è il problema il pullman non passa ma insomma ma sgonfia che è gomme dai imbessi e adesso ora che tocca no sotto allora proprio non sono in grado non sono in grado E' Jesus, E' Jesus E' Jesus, E' Jesus Vado a bere aperitivo da mio amico Bidau Serra, oppure da Bardan, adesso vedo, e poi vado in vacanza Cin cin